Ragazzi c'è un problema bello grosso, oltre al fatto che i lag sono buggati Il problema è che sono stata effecata su minecraft e uno scheletro mi ha ucciso Sono stato effecato per una cosa come 50 minuti Ok, poi non so cosa sia successo Sempre tutto ok, ho recuperato la mia roba, ho perso un po' di livelli Probabilmente E niente, ce ne siamo Comunque fa molto neve fitta, molto neve fitta Non uscire di piazza assolutamente Quindi costruiamoci, come se ho ancora le frecce Costruiamoci qualcosa Mi sono raccolto un bel po' di assidiabese e anche un po' di dietrisco Perché oggi, signori e signori, mi costruisco Dove è il mio ticcone? Ho perso il ticcone, bene Comunque dicevo, oggi mi costruisco il magazzino Ci costruiamo così E facciamo l'entrata Quindi così E Proviamo la neve Così Guardate qua che figata Ora, vediamo se l'acqua funziona ancora Sì, l'acqua c'è ancora Quindi il mio trucco funziona Mettere le cose coperte Ora iniziamo la costruzione del magazzino È molto essenziale Non sarà nulla di eccezionale Ok, appena raga ho fatto le basi in pietra Ora vado di legno Qui ci voglio fare la zona craft in table Quindi, così Bene Raga, veramente perfetto Ora, slab Lo faccio con le slab perché consumano molto di meno Sono più facili per fare i tetti Ma soprattutto perché le casse si possono mettere Tipo sopra un blocco Non si possono mettere le casse Troppo una parte Non si possono mettere le casse Mentre invece sopra uno slab sì Ora si inneverà tutto purtroppo Però forse è anche un bene In fondo l'inverno craft È invernale Ecco, appena l'ho detto È uscito il sole Bello Vediamo com'è col sole Col sole è Molto bello col sole È veramente molto carino Costruzione terminata All'incirca Ora serve una porta che ho già nell'inventario In teoria Bene Poi Torce Torce E però qua no Poi ci vanno le casse E qua le metto le torce E anche Basta Magari Qui ci vanno due casse Qui altre due casse Vabbè qua le metto E anche qua Bene So che ho un gran rischio Lavorare di notte Però Io lavoro comunque Ok Ho finito il magazzino Perché c'è il bug della neve C'è sto bug della neve Oh Ora va meglio Devo mettere le casse Il punto è che consumano veramente un botto Perché le casse sono veramente più da creare Me ne posso fare Ben sei Lui giustamente me ne fa tre Me ne ne devono quattro Qui ci mettiamo Materiali Da Costruzione Miniera Miniera E qua Cos'è che manca Costruzione Ah ok Oggetti Oggetti Vai Nel dubbio Sistemeremo nei prossimi giorni Niente Depositiamo quello che abbiamo E raga Questo qui E' finito Questo bellissimo episodio Che abbiamo costruito Il magazzino Noi ci vediamo Al prossimo episodio Raggiungiamo i 4-5 like Volete voi Se non si bugga Ormai non ve li chiedo Neanche più le Per stasera Sono buggati Niente Noi ci vediamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima